Alla linea 81 noi abbiamo una forma che in aramaico non si trova all'epoca di Gesù, ma in ebraico sì, Abì, padre mio. Linea 82 trovate anche l'espressione Abinu, che vuol dire padre nostro, ed è una forma di preghiera sinagogale. Per questo motivo cominciamo a tirare qualche conclusione storica. L'espressione matteana, padre nostro, che sei nei cieli, è sinagogale, mentre il pater, l'invocazione di Luca, è quella originale. Perché quando Gesù chiamava suo padre Abba, non ci infilava niente accanto, nessun altro titolo. Luca, dunque, è quello che ci ha custodito la forma originale di Gesù, mentre Matteo, che scrive per degli ebrei convertiti al cristianesimo, ha cercato di mantenere l'originale di Gesù, ma anche di non creare distacco con quello che era la provenienza di questi cristiani dalla loro matrice ebraica. Noi dobbiamo tenere presente che la Chiesa nascente non si sente un corpo estraneo all'ebraismo. Per più di qualche anno la Chiesa si è sentita parte integrante della sinagoga. Se noi avessimo tempo, modo, voglia, eccetera, e leggessimo quello che Gesù faceva e quello che Paolo faceva, è interessantissimo. Perché Gesù predicava nelle sinagoga come era solito fare. Trovate spesso questa espressione. Noi, invece, siamo un pochettino romantico bucolici. Immaginiamo Gesù sulla collina. Una volta sola l'ha fatta una. Il famoso discorso cosiddetto della montagna o della pianura. Cioè, questo discorso fatto all'aperto. Poi l'ha fatto una seconda volta sul lago di Genezare. Ha preso la barca di Pietro, l'ha leggermente scostata dalla riva, in modo che la riva facesse l'anfiteatro. Ma tutte le altre volte lui predica nella sinagoga. E i cristiani della prima ora continuano a frequentarla. Paolo, quando fa il missionario, la prima cosa che fa non va nelle piazze. Noi abbiamo davanti l'immagine del discorso che Paolo fa a Reopago. Capitolo 17 degli Atti. Ma di norma Paolo va nella sinagoga a predicare. E Gesù poi dirà anche questo. Dunque, Matteo mantiene questo legame con la preghiera sinagogale. Perciò l'espressione di Matteo non la consideriamo, fino a prova contraria, non la consideriamo originale. Originale è invece l'espressione lucana. Non è che Matteo sbagli. Matteo semplicemente introduce dentro quelli che noi chiamiamo gli automatismi liturgici. Io, prete, ogni tanto mi faccio la mia risatina sotto voce, sotto i baffi, cerco di non farmi vedere. C'è il lettore che mi sta leggendo la seconda lettura e qualche volta Paolo adopera la formula liturgica. Dio ha benedetto nei secoli e tu senti dall'Assemblea. Amen. Taci! Sta facendo la lettura. Nel prefazio, poi, è puntuale. Il primo protocollo del prefazio è veramente cosa buona e giusta, nostro dovere è fonte di salvezza, rendere grazie a te, Dio Padre Onipotente, per Cristo nostro Signore. Sbamf! Taci! Questi sono gli automatismi liturgici molto frequenti nelle nostre chiese. Uno è distratto, sente la formula, piazza la risposta. Non dico che per Matteo sia successo la stessa cosa, ma qualcosa di vicino. Quello che a noi adesso interessa è capire questo. Mentre il Padre Nostro di Matteo mi dà, chiamiamo, un aspetto teologico nobile del Padre Nostro, e Luca, invece, mantiene l'originale tenerissimo, tipico del bambino, tipico del discepolo, noi ci chiediamo se Gesù parlava aramaico o ebraico. Oggi è ancora un tema molto dibattuto tra gli specialisti, perché non dimentichiamo che Gesù era un rabbino. E quando si va in sinagoga, il testo lo si legge in ebraico. E quando si fa la cena pasquale, la si celebra in ebraico. E quando si fa qualcosa di solenne nel primo secolo dopo Cristo, la si fa in ebraico. Gesù parlava benissimo l'ebraico. Conosceva l'Antico Testamento a memoria, come tutti i suoi colleghi rabbini. Nella sinagoga leggeva capitolo quarto del Vangelo di Luca, si dice che Gesù entra a Nazareth, si fa dare il rotolo, poi chiude il rotolo e comincia il commento al testo di Isaia. Parlava aramaico? Sembrerebbe proprio di sì, perché abbiamo più testimonianze sulla lingua aramaica parlata di Gesù che non sulla lingua ebraica o sulla lingua greca. Gesù era trilingue. Perché facciamo questa breve ricerca sull'aramaico di Gesù? Perché abbiamo bisogno di consolidare quel Abba. Abba è aramaico, non è ebraico. Se noi riusciamo a vedere come Gesù parlasse l'aramaico e quindi fosse familiare con questo tipo di linguaggio, abbiamo la controprova che Abba è la formula originaria. per fare questa piccola ricerca qualcuno adesso si chiederà due ore bastano? Ci divertiamo un poco, andate alla linea 88. prese la mano della bambina e disse talità cum alla linea 86 avete la trascrizione in alfabeto semitico questo è aramaico puro. Ragazzina questo brano che vi ho citato di Marco 5,41 è uno degli argomenti che San Girolamo aveva per prendere a sberle i suoi denigratori. Quando lui ha tradotto la Bibbia in latino alcuni sapientoni di Roma lo hanno accusato di essere alle volte un pizzichino libero di non essere proprio rispettosissimo della lettera e allora lui porta questo esempio e dice guardate bene l'aramaico talità cum ragazzina cum alzati guardate guardate invece cosa scrive Marco prese la mano della bambina e le disse talità cum che significa fanciulla ma io ti dico non c'è in aramaico in aramaico c'è fanciulla alzati però Marco infila dentro io ti dico e allora Gerolamo dice notate queste parole ispirate di Dio e nella traduzione ha avuto una certa ampiezza ha fatto una specie di piccolo targum che allora era una forma di traduzione all'epoca di Gesù tipica del mondo ebraico proprio perché dovevano obbedire a quello famoso detto rabbinico che voi già conoscete maledetto chi traduce maledetto chi non traduce e allora sei sempre maledetto e allora per evitare di essere sempre maledetti si fa la traduzione si fanno delle aggiunte esplicative facendo delle aggiunte esplicative tu non stai traducendo quindi non sei maledetto ma d'altra parte traduci dunque fanciulla io ti dico alzati abbiamo un'altra prova dell'aramaico di Gesù il quale di fronte a questo sordo muto guardando quindi verso il cielo e mise un sospiro e gli disse effatà cioè apriti l'aramaico ce l'avete alla linea 91 96 nessuno può servire due padroni perché odierà l'uno e amerà l'altro oppure si affezionerà l'uno e disprezzerà l'altro non potete servire Dio linea 95 ultima parola di destra la potete leggere anche senza sapere greco mammona mammona niente doppia m e accento sull'ultima noi invece siamo condizionate dalla mamma grande e diciamo mammona l'aramaico è mammona così come viene trasiterato dal greco che non significa solo ricchezza significa anche potere significa anche possesso la donna che vuol possedere il proprio uomo mammona l'uomo che vuol possedere la propria donna mammona ricchezza potere possesso chi ha queste caratteristiche servirà queste caratteristiche non certo Dio ed è interessante capire chi è il nemico di Dio il nemico di Dio è la ricchezza il potere e il possesso il demonio ieri stavo parlando a un gruppo di divorziati e risposati carissime persone Dico andate a vedere il libro di Giobbe capitolo primo e capitolo secondo non occorre leggere tutti i due i 42 capitoli se no uno si prende una sbornia ma basta i primi due Satan fa parte della corte divina che sia un rompino lo è che sia un qualcuno sempre che ce l'ha col Padre Eterno è vero ma è una creatura ribelle fin che volete che induce al male fin che volete ed è quello che mette Giobbe nella situazione di rifiutare Dio perché Satan dice a Dio Giobbe è un uomo giusto perché tu gli dai salute ricchezza figli eccetera tirali via questo e vedrai che non ti adorerà più e Dio gli dice prova non toccarli la vita però Satan arriva uccide i figli porta via le ricchezze e Giobbe continua ad essere fedele a Dio Satan trova Dio e gli dice senti fino a quando l'uomo ha la salute accetta anche le disgrazie della vita e Dio dice va bene toccarli la salute ma non portarli via la vita perché la vita è mia e povero Giobbe si trova sopra un letamaio a grattarsi col coccio le rogne e Giobbe resta ancora fedele chiamerà in processo Dio dicendo tu sei ingiusto io ti chiamo a processo perché tu sei onipotente io sono piccolo e ti diverti a farmi soffrire gratis questa è ingiustizia quindi di processo sappiamo poi come è andata a finire ma Satan ricordiamocelo non è l'antidio non è un altro Dio un altro Dio fatto dall'uomo è mammonà Gesù dice questo non potete servire due padroni ancora siamo alla linea 101 alle tre Gesù gridò a gran voce Eloì Eloì Lema Sabachtani che significa Dio mio Dio mio perché mi hai abbandonato chi ha imparato quattro H di ebraico insieme con me sa che l'abbreviazione di Elohim è El e per dire mio basta aggiungere una Iot e quindi Dio mio si dice Eli Eli in ebraico Eloì Eloì è aramaico ci siete? quindi anche prima di morire abbiamo la testimonianza che Gesù dunque parlava aramaico normalmente il che ci sta a dire che Abba è la parola corretta detta da lui un'espressione aramaica in una preghiera che non è solenne perché se ricordate la volta scorsa abbiamo visto come questa preghiera in Luca nasce dalla richiesta che i discepoli fanno a Gesù dicendo vogliamo il distintivo la preghiera che ci identifichi come tuoi discepoli e quindi Gesù insegna una preghiera familiare non la preghiera solenne da dire nella sinagoga quindi abbiamo tutti gli elementi per poter essere garantiti che Luca ha l'espressione più esatta ora facciamo un passettino avanti cerchiamo di capire che valore ha a chiamare Dio papà abbiamo visto che l'espressione padre nostro è sinagogale e ciò pone anche il sospetto sull'espressione o entoi suranois che sei nei cieli che potrebbe essere sinagogale ma la vedremo subito che cosa possiamo ricavare dal fatto che Gesù chiama suo padre Abba con due B prima di tutto mette in chiaro quali sono i nostri rapporti con Dio mentre dall'esperienza delle altre religioni noi abbiamo un Dio che comanda alle volte chiede sacrifici umani alle volte la violenza il Dio di Gesù Cristo non è questo il Dio di Gesù Cristo è il papà che tiene il piccoletto sulle ginocchia il quale si diverte da morire a tirare la barba del papà questo è il rapporto che esiste fra Dio e ciascuno di noi o ci mettiamo in testa questa immagine o noi del cristianesimo non capiremo mai niente adesso capite molto bene perché certe forme di cristianesimo che fonda la propria autorità sulla paura non è cristianesimo Dio ti castiga no domani viene la fine del mondo no sono tutte forme di terrorismo spirituale quando lo sentite sappiate che lì lo spirito del cristianesimo non c'è quando noi dunque cominciamo a capire bene il rapporto con Dio forse cominciamo a capire meglio Bergoglio non significa che siamo d'accordo su tutto ma lo spirito che Bergoglio sta seminando nella chiesa è questo secondo è chiaro che noi concepiamo noi stessi nel momento in cui ci rapportiamo a qualcun altro per capire l'io dicono gli psicologi abbiamo bisogno di un tu senza un tu non capiamo l'io a livello di fede se Dio è così tu chi sei e cominciamo ad avere una concezione di noi stessi diversa da quella che potrebbe nascere di fronte di fronte un Dio giudice di fronte un Dio forte di fronte un Dio onnisciente di fronte un Dio onnipotente tutte cose vere perché la metafisica ce lo dice ma Gesù dice metti da parte queste cose per te Dio è Abba punto chiuso che poi lui sia anche onnisciente onnipotente va bene ma a te deve interessare che sia Abba e su questo perno gestisci il rapporto con lui ma anche il rapporto con te e su questo abbiamo ancora mi pare tanta strada da fare non solo a livello di convinzione personale ma anche a livello di conoscenza a livello di sapere di sapere di sapere di sapere